Se si ferma in commissione, io però vorrei evitare lo stop and go, anzi il go and stop che stiamo facendo. Discutiamo meglio prima delle cose, un po' senza l'idea che sia tutto messo con, come dice Renzi, o me o il Senato. Magari uno il Senato può tenere, può tenersi anche Renzi. E' il velocismo. E' il velocismo, però alla lunga, sa l'adrenalina è una cosa bella, ma tra i mesi di adrenalina uno scoppia. Sto parlando di me, non di Renzi.